Siamo oggi qui a Torino a battezzare il presidio che sta per nascere che è dedicato a Don Pino Puglisi l'abbiamo scelto sia perché la nostra è una scuola salesiana quindi si rifà comunque alla figura di un prete sia perché due settimane fa è stato beatificato è molto bello essere referente di questo presidio per le persone che ho conosciuto anche per il lavoro che stiamo facendo da settembre grazie al nostro animatore abbiamo fatto formazione ne sappiamo di più, ora siamo molto legati all'argomento comunque è emozionante arrivare qui a Torino vedere tutta questa gente ora si riempirà la sala cioè noi siamo comunque già partiti in treno tutti emozionati no no è bello bello grazie a tutti grazie a tutti